Una voragine lungo il marciapiede che divide le due careggiate. Si presenta così agli occhi dei cittadini via Caravaggio nel quartiere Sant'Elia di Brindisi. Secondo quanto denunciato dagli abitanti di zona, il marciapiede è avverso in questo stato da diverse settimane e nonostante le segnalazioni agli uffici comunali preposti, gli addetti ai lavori non sono intervenuti. Una buca di queste dimensioni mina la sicurezza dei pedoni, oltre a che essere un'orribile immagine di un quartiere dimenticato. Infatti sono sempre le periferie a essere meno considerate e mai valorizzate come si deve, in barba alla loro riqualificazione di cui spesso gli amministratori fanno cenno, ma senza mai un programma necessario di interventi di arredo urbano. Purtroppo non è soltanto la voragine a farla da padrona in via Caravaggio. Anche il marciapiede in cui insiste un chiosco è diventato negli anni impraticabile, con avvallamenti, buche e manto stradale sollevato. Anche qui il rischio di caduta per i pedoni è all'ordine del giorno. È mai possibile che qualcuno non pensi all'incolumità dei cittadini? Perché in città ci si debba mobilitare solo e soltanto a danni o incidenti accaduti? La prossima amministrazione comunale avrà dunque il delicato compito di scendere per le strade senza restare negli uffici di palazzo di città, ascoltare in primis i cittadini e porre rimedio alle loro richieste. Insomma, la riqualificazione delle periferie e il decoro urbano devono essere una delle mission prioritarie del prossimo governo cittadino, perché la crescita di Brindisi passa anche da qui.